Aveva studiato ad una scuola di moda per poi lavorare in un'azienda francese, ma la 22enne di Baltimore, Max Marshall, aveva un'altra passione, la musica. Aveva cominciato a scrivere canzoni a 14 anni, poi a 18 anni via in Inghilterra per dare corpo al suo sogno. Nell'ottobre 2013 ha lanciato il suo primo disco, Pressure. Credo sia stato un modo per uscire dal guscio, avevo cinque sorelle più grandi, quindi è stato difficile diventare adulta. Ho pensato alla musica, era ciò di cui avevo veramente bisogno. Il nuovo singolo di Marshall, Your Love Is Like, è appena stato diffuso con tanto di video. Sono molto fiera del video, l'ho girato nella città in cui sono nata, la mia città natale di Baltimore, nel Maryland. Mostra il luogo in cui sono stata, che mi hanno ispirata, fa vedere le persone importanti della mia vita, mia madre, c'è anche mio zio Reggie. È una canzone in cui c'è tutto, tutto quello che amo, il mio lavoro, il mio ragazzo, la mia vita nei suoi momenti magici. È una canzone che riassume molto e che si ricollega a tutto. Max Marshall è adesso in tour promozionale del suo nuovo singolo.